Allora Kamil, chiudiamo la seconda settimana di preparazione, un paio di giorni di riposo per recuperare fisicamente e anche mentalmente, intanto come procede il lavoro, come vanno le cose qui al Palabarton? Vanno bene, stiamo sudando bene come vediamo, poi sì, adesso siamo anche in sei, possiamo fare un po' di più, iniziamo a saltare, a attaccare, allora diventa un po' più interessante anche per noi giocatori, non solo corre, piano piano si prepariamo fisicamente, non solo piano piano, anche più veloce. Senti, ti sei presentato con una grande novità quest'anno che al Palazzetto, ne parlavamo a microfoni spenti, dei tempi del Noligo, che non tagliavi i capelli, vero? Eh sì, vecchi tempi, c'è new entry per qui in Italia, era tempo di perdere un paio di chili sulla testa, avere un po' più, l'atmosfera più fresca lì su e andiamo avanti. Bene, senti, come va la conoscenza con Andrea Anastasi, nuovo allenatore, queste settimane sono molto utili, no, per voi che siete qua, anche per conoscere le sue metodologie, il suo modo di intendere la palla a bolo. Sì, va, esatto, io non conosco, non conoscevo Andrea prima, credo che adesso è il momento, no, dove puoi imparare le sue idee, la sua visione, però mi sembra soprattutto adesso che si focussiamo un po', concentriamo sulla preparazione fisica e credo anche dopo quando ci saranno un paio di più ragazzi, piano piano parliamo anche forse della tattica o di gioco. Poi arriverà anche la parte un pochino divertente, adesso come hai detto te, si suda, si lavora tanto, si gioca poco a pallavolo. Esatto, sì, come vedi, no, facciamo anche tante giochini piccoline che credo piacciono a tutti e sì, alla fine in quattro e in sei non puoi fare la magia, però allenamento divertente, anche un po' di beach abbiamo anche fatto, allora piano piano andiamo avanti. Bene, grazie Camillo.